Poracci, ormai l'attesa per Hollow Knight, Silksong è diventata praticamente un meme e la produzione targata a Tim Cherry sembra destinata a non uscire mai. Il titolo è sparito completamente dal suo annuncio nel 2019, se non per qualche sporadica e minuscola menzione da parte degli autori. La situazione però potrebbe essersi sbloccata e fossi in voi terrei d'occhio la cerimonia di apertura della Summer Game Fest questo giovedì. Su Twitter infatti Jeff Keeley ha scritto un post che recita più o meno così «Non c'è niente di meglio che ritrovarsi un'anteprima mondiale nella casella della posta». Al tweet ha risposto Matthew Griffin che approva il teasing del presentatore. Poracci, Matthew Griffin è il PR che si occupa del marketing e della pubblicazione di Silksong e Crownsworn che abbia voluto lanciare un bel segnale alla fanbase. Certo, attenti a far salire l'hype perché potremmo ritrovarci tra le mani un bel niente o al massimo un nuovo trailer di Crownsworn che, insomma, a questo punto non si butta via niente. Noi seguiremo l'evento insieme, però intanto ditemi, secondo voi vedremo Silksong alla Summer Game Fest?